A Bruxelles la questione migranti al centro del vertice straordinario dei ministri degli affari interni si riaccende il braccio di ferro fra Italia e Francia con l'out-out di Parigi no a ricollocamenti se l'Italia chiude i suoi porti. Da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio, a te. Sì, c'è tensione qui a Bruxelles al Consiglio dei Ministri dell'Interno che si svolge un consiglio straordinario ed è in questo momento ancora in corso. Il ministro francese Darmanin lancia un avvertimento a Roma. Se l'Italia non accoglie le navi e non accetta il diritto del mare sul porto sicuro allora non ci saranno più ricollocamenti da parte di Francia e Germania. Questo è l'avvertimento del ministro francese Darmanin. L'Italia, insiste, deve aprire i porti alle ONG e lo stesso devono fare gli altri paesi del sud del Mediterraneo. Al Consiglio partecipa per la prima volta il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che espone la posizione italiana. L'incontro di oggi è l'inizio di un percorso importante che andrà avanti per definire e rendere operativi gli strumenti efficaci per poter governare questo fenomeno. Fa sapere una fonte qualificata qui a Bruxelles. Quest'anno, ricordano, sono 90.000 gli arrivi in Italia via mare con un aumento di oltre il 50% rispetto al 2021. Il vicepresidente della Commissione, Schinas, fa sapere che l'Unione Europea è pronta a sostenere il codice di condotta delle ONG e un quadro unico europeo sarà pronto entro il 2024, promette. Il Consiglio, come dicevamo, è ancora in corso e attesa a una conferenza stampa tra una mezz'ora circa, viene esaminata la proposta della Commissione che chiede una maggiore collaborazione tra i Paesi membri per rendere efficaci i ricollocamenti dei richiedenti asilo e i rimpatri dei migranti irregolari. Viene anche chiesto un ruolo più importante per l'agenzia Frontex. Anche è previsto un forte sostegno ai Paesi di partenza e transito e una cooperazione per la ricerca e soccorso in mare ma facendo chiarezza sul ruolo delle navi private. La Commissione ha presentato questo piano pochi giorni fa, lo ricordiamo, il piano sul Mediterraneo centrale, soprattutto dopo è una risposta alla crisi diplomatica Italia-Francia per l'attacco della nave a Tolone Ocean Viking. È tutto da Bruxelles, linea a Roma.